amici bentornati sul canale 9 mila giri elaborazioni autosportive oggi vi presentiamo questa golf 8 in versione r con performance pack quindi già di serie esce con 320 cavalli sulla quale abbiamo fatto tutta una serie di lavori partendo ovviamente dal discorso centranina elettronica che è il cuore del sistema il kit aspirazione che è questo e la parte della linea di scarico partendo dal centrale e anteriore che va a togliere appunto l'OPF e il terminale sportivo gestito dalle valvole della Krapovic adesso vi facciamo sentire il sound prima e dopo per capire un attimo la differenza mi volevo soffermare solo un attimo per una curiosità il fatto che aprendo il motore uno dice come mai non c'è il coperchio quello che è praticamente la parte estetica che va a coprire la parte superiore del motore perché ci hanno spiegato e non è la prima macchina che ha questo genere di inconveniente quindi ce l'ha spiegato un cliente che ha la cupra formentor con motore sostanzialmente simile e anche quelli che hanno le nuove RS3 hanno fatto un richiamo quelli della Volkswagen e hanno fatto togliere quelli che sono i coperchi perché col calore che sprigiona la turbina la turbina è messa in questa posizione col calore che sprigiona la turbina c'era la tendenza che prendesse fuoco questo coperchio che è fatto in un materiale plastico quindi tanti adesso se uno non lo vuole sostituire lo toglie e elimina il problema alla base ci sono altri clienti che acquistano il coperchio c'è ad esempio il coperchio ne abbiamo fatto vedere uno abbastanza recentemente se andate a vedere i video precedenti c'è uno sulla nuova RS3 con il coperchio completamente in carbonio che accompagna appunto lo scarico della Krapovich e viene appunto a sostituire quello che è il pezzo in plastica essendo il carbonio materiale molto più resistente non soffre del calore quindi si elimina il problema quindi è un come dire un appunto che valeva la pena di rimarcare adesso Mirko vi fa sentire la comodità con o senza le valvole quindi aprendo chiudendo le valvole io direi di spegnere prima che ci tirino qualche schioppettata o pensano che sia qualche missile che arriva dalla Croazia o da quei posti lì quindi si sente nettamente la differenza questi questi scoppi in in rilascio sono appunto la contropressione che viene sviluppata dal fatto che è una linea praticamente tranne il terminale che appunto ancora un silenziatore è una linea praticamente diretta e soprattutto togliendo l'OPF che è una diciamo una massa molto compatta che va a abbassare in maniera notevolissima quello che sono le onde sonore si ottiene chiaramente una rumorosità di questo tipo il vantaggio è che avendo le valvole uno non può andare in giro sempre con una macchina del genere perché ovviamente un rumore di questo tipo come diciamo sempre non è a norma non è omologato perché superi 90 decibel quindi viene usato dove è consentito usarlo in pista o in in posti chiusi se uno lo usa per la strada chiude il circuito diretto viene utilizzato appunto il silenziatore viene sfruttato il silenziatore posteriore e la rumorosità rimane sempre sportiva ma comunque diciamo a norma quindi la differenza sostanzialmente è questa esteticamente quindi abbiamo descritto la parte tecnica meccanica esteticamente abbiamo aggiunto questo spoiler che viene incollato sullo spoiler resistente quindi è un aggiunto un appendice che viene incollata sullo spoiler resistente e questo estrattore sempre dalla maxton design che viene applicato in sostituzione di quello di quello di serie questi sono due particolari fatti molto bene la maxton design è un'azienda come ho descritto altre volte con la quale abbiamo iniziato una collaborazione da circa sei mesi ci troviamo molto bene perché fanno dei pezzi molto precisi anche molto belli da un punto di vista estetico e quindi quando li montiamo sappiamo che il risultato finale è assolutamente eccellente l'unico problema sono un po lunghi con le consegne però diciamo al di là di questo giudichiamo l'azienda molto molto valida io direi ci rivediamo magari in un prossimo video che facciamo una prova dinamica su strada anche per oggi è tutto vi invito a contattarci telefonicamente per qualunque genere informazione allo 0273 83175 io sono a vostra disposizione dal lunedì al venerdì mi potete chiamare telefonicamente inviare mail quello che volete vi invitiamo a consultare il sito www.nomenlagiri.it nella parte archivi e elaborazioni e vi invitiamo soprattutto a cliccare sulla campanella e iscrivervi al canale che per noi è molto importante per farlo crescere in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima